Sì, sì, mettila, mettila. Cristina? No, no, no. Cristina, ti conosce o non c'è? No, non c'è. Vabbè, viaggino anonimato. Anonimato. Ma tu ce l'hai Facebook? Non ci sei su Facebook. No, tu ci sei. No. 6.250 fami. Ho visto i vostri. Questa? Su YouTube. Ho visto Bruno. Che pedalava, pedalava. Tu ci sei, questo. Lei con la famiglia. Hai letto la mail. 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 Ma quando? Io ne le ho scopiassi. Bravo, bravissimo. Caffè, caffè, tutti.